E' stata strattonata, poi gettata a terra, per sottrarle oro e denaro. Vittima della rapina, un'anziana signora. E' successo ad Arezzo, in via Tanaro, traversa di via Tagliamento. Tutto è partito dalla truffa del finto carabiniere, ma quando la vittima ha iniziato a sospettare della frode, tutto è degenerato. Ormai, più che noto il canovaccio, il truffatore citofona la vittima qualificandosi come ufficiale dei carabinieri. Poi l'annuncio dell'incidente stradale causato dal figlio, in questo caso con una bambina rimasta gravemente ferita. Ed infine la solita richiesta di denaro o preziosi come cauzione. L'ottantenne all'armata ha raccolto oro e contanti, ma ha superato lo shock iniziale e ha chiesto al sedicente carabiniere di mostrarle un documento. A questo punto il bandito, vistosi scoperto, l'ha colpita buttando la terra e strappando le preziosi che la donna aveva racimolato per darsi alla fuga. Sull'episodio una truffa aggravata, degenerata in rapina, sta indagando la polizia di Stato. Non sarebbe l'unico caso avvenuto in zona. Ad Arezzo e provincia le truffe, i danni di anziani trattentate e consumate nelle ultime settimane, infatti si sono moltiplicate.